Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Squadrismo, la grande storia. Perché c'è una trasmissione televisiva intitolata La Grande Storia. Allora, anche io oggi faccio una lezione di grande storia. Questa mia lezione è intitolata Squadrismo, la grande storia. Io ne ho già parlato brevemente in un video intitolato Corrado Augas e lo squadrismo pentastellato, cioè lo squadrismo del Movimento 5 Stelle. Ho già spiegato com'è la questione dello squadrismo fascista e quello che stanno facendo i pentastellati non può essere equiparato a ciò che avvenne ai tempi dello squadrismo fascista. E allora facciamo un po' il video Squadrismo, la grande storia. Beh, in fin di conti io per tanti anni ho insegnato filosofia e storia nei dicei classici e scientifici e poi ho fatto pure il preside di ruolo nei dicei classici e scientifici per cui per me non è una fatica fare questo video intitolato Squadrismo, la grande storia. Beh, innanzitutto cari amici, a scanso di equivoci io sono l'autore di questa opera che questo è un ebook interattivo e multimediale vedete intitolato dal matriarcato al patriarcato io in tantissimi video ho già detto che siamo in patriarcato e dal patriarcato non si può tornare al matriarcato sarebbe come dire che che negli anni 30, 1930-35 è stata scoperta l'energia nucleare prima l'umanità non la conosceva, poi viene scoperta nel 1930-35 l'energia nucleare poi con l'energia nucleare si fanno pure le bombe atomiche a loro l'umanità si dice e si dice beh, l'energia nucleare, bombe atomiche non è una cosa bella torniamo indietro, facciamo finta di non averla scoperta l'energia nucleare, non si può non si può, non si può tornare indietro così una volta che si è passati dal matriarcato al patriarcato non si può più tornare indietro però conoscere il matriarcato conoscere il matriarcato serve per capire meglio i meccanismi del patriarcato cioè serve per cercare di soffrire un po' di meno chiaro? allora io non ho mai fatto un discorso di tipo diciamo così comunista mai, 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 mai fatto mai, 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 perché in patriarcato noi non possiamo eliminare la proprietà privata ok? ok ok il mio non è un discorso di tipo comunista tanto per scomperare il campo degli equivoci il mio è un discorso di tipo platonico io la penso come Platone Platone ha scritto un'infinità di dialoghi uno di questi dialoghi è la Repubblica si chiama la Repubblica e nel dialogo con la Repubblica Platone diceva che i governanti non devono avere la proprietà privata i governanti politici non devono avere la proprietà privata invece il popolino tra virgolette il popolaccio il popolino la plebe può avere tutta la proprietà privata che vuole però diceva Platone i governanti non devono avere la proprietà privata guarda un po' che caso non era mica un comunista Platone però diceva che i governanti cioè i politici coloro che governano una nazione non devono avere proprietà privata poi andava ancora più in là Platone Platone diceva che non solo i governanti non devono avere la proprietà privata ma devono avere pure le mogli e i figli in comune per non cadere nelle tentazioni del familismo del nepotismo ecco come la pensa Serafino Massonica ok cari amici quindi sgomberiamo il campo da qualsiasi equivoco bene e adesso affrontiamo la questione di squadrismo la grande storia perché oggi oggi tanta gente arrabbiata tutta quella gente arrabbiata che è sempre vissuta il finanziamento pubblico dei partiti e vede il Movimento 5 Stelle come il fumo negli occhi allora se quelli del Movimento 5 Stelle fanno una qualche operazione che a loro non piace magari fanno un po' di bagarre per via come quando c'è stata la questione Imo, Banca Italia, Banca Italia, Imo Imo, Banca Italia, Banca Italia, Imo allora parlano subito del squadrismo fascista dicono che i pentastellati i parlamentari pentastellati si comportano come degli squadristi fascisti allora andiamo vediamo un po' com'è la questione sullo squadrismo fascista dobbiamo tornare ai tempi precedenti la prima guerra mondiale precedenti di pochi mesi quando era già scoppiata la prima guerra mondiale ma noi ancora non eravamo entrati in guerra la prima guerra mondiale scoppia nel 1914 noi entriamo in guerra nel 1915 abbiamo avuto un anno di riflessione in questo anno di riflessione si formò il movimento degli interventisti cioè di coloro che volevano entrare nella prima guerra mondiale contro la Germania e contro l'impero austro-unghari volevano entrare a tutti i costi per portare all'Italia il Trentino Alto Adige e il Pimuli Venezia Giulia però gli imperi centrali cioè Germania e Austro-Ungheria non erano contenti che noi entrassimo in guerra contro di loro per cui ci furono delle trattative per le quali l'impero austro-ungharico ci proponeva di darci delle terre se noi restavamo neutrali cioè del Trentino Alto Adige ci dava il Trentino senza che noi facessimo la guerra del Pimuli Venezia Giulia ci dava un bel pezzo del Pimuli Venezia Giulia c'erano anche i socialisti i socialisti che erano d'accordo ovviamente i socialisti anche i popolari erano d'accordo però gli interventisti fecero come si dice fecero tanto casino gli interventisti e poi tra gli interventisti c'era pure Benito Mussolini e Gabriele D'Annunzio insomma gli interventisti erano tutti tutti giovani di belle speranze del tempo fecero tanto casino e la monarchia alla fine si decise a entrare in guerra e noi entrammo in guerra mi pare il 24 maggio del 1915 c'è pure la famosa poesia no? Piave morborava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio e vi di seguito e se no che le cose non andarono bene anche perché gli austro-engarici avevano le fortezze sulle vette e noi invece stavamo in pianura in pianura e insomma i primi anni di guerra furono terribili per noi il comandante generale era Luigi Cadorna e Luigi Cadorna mandava all'assalto i soldati italiani li mandava all'assalto contro le trincee austriache con le messagliatrici morirono centinaia di migliaia di soldati all'assalto 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 poi per farla breve poi c'è un caporetto si chiama rotta di caporetto rotta attenzione non è sconfitta di caporetto rotta la rotta è una sconfitta drammatica la rotta è quando il fronte viene spezzato infatti con caporetto il fronte italiano venne spezzato e l'esercito austro-ungarico penetrò in profondità penetrò in profondità dentro il Veneto in profondità al punto che poteva l'esercito austro-ungarico poteva scendere e arrivare persino in Sicilia e se non che ci vennero ad aiutare delle divisioni dei francesi in pesi e anche americani perché nel frattempo erano entrati in guerra gli americani e ci dettero la mano c'era anche Ernest Hemingway anche Ernest Hemingway ci dettero la mano e noi riuscimmo a parare il colpo poi venne destituito lui Luigi Catorna e arrivò Armando Diaz il generale della Vittoria Armando Diaz volle incoraggiare i soldati erano tutti contadini perché l'Italia era ancora contadina c'erano poche di aziende e giustamente Armando Diaz disse ai soldati cari soldati siete tre anni che state qua nelle trincee resistiamo perché vinceremo di certo e poi poi dopo la monarchia darà a voi la proprietà delle terre che voi lavorate non la proprietà di tutte le terre la proprietà delle terre che voi lavorate in affitto o in mezzatria vi darà la proprietà di queste terre e questa promessa fu fatta a milioni di soldati contadini non è che fu fatta a tre o quattro soggetti a milioni di soldati che stavano lì nelle trincee poi arriva la vittoria e i soldati contadini quasi tutti i contadini il 95% dei contadini tornano a casa e si aspettano che la monarchia attuvi le promesse perché erano tutti i contadini allora c'erano poche le fabbriche capito l'Italia era prevalentemente agricola c'era il 90% della popolazione che erano agricoltori però la monarchia non se la sente di attuare le promesse perché la monarchia doveva vedersela pure con i lati fondisti i lati fondisti costituivano un pochettino come dire il baluardo della monarchia no d'accordo e qui ci fu il primo errore da parte della monarchia perché la monarchia poteva poteva certo è facile fare la storia a posteriori ma insomma poteva la monarchia poteva poteva mettersi d'accordo con i lati fondisti poteva si diamogli la terra in fin di conti gli diamo la proprietà della terra che lavorano in fin di conti voi lati fondisti ne state sempre lati fondisti ne avrete un po' di meno di terra ma ne avete sempre tanta non c'è niente di male questi qua mica vogliono l'abolizione della proprietà privata anzi questi vogliono un pezzetto di proprietà privata primo errore della monarchia primo errore e allora siccome non erano state attuate le promesse fatte in guerra guideremo la terra che lavorate non tutta la terra quella che lavorate che avete sempre lavorato e allora si formarono dei movimenti di protesta e si formarono in tutta Italia dei movimenti di protesta ci furono grandi scioperi grandi scioperi ci furono e ci furono dei disoltini grandi disordini in tutta Italia e contro questi disordini non è che ci andarono tanto non ci andò l'arma dei carabinieri l'arma dei carabinieri guardava le cose in maniera neutrale perché mica sono stupidi quelli dell'arma dei carabinieri questi erano disordini sociali e contro questi disordini si formarono in varie province anche in maniera un po' autonoma senza un collegamento nazionale si formarono delle squadre in Germania si chiameranno squadre d'azione si formarono delle squadre diciamo così di bicchiatori nulla facenti anche erano quasi tutti reduci dal fronte militari che erano fieri della vittoria contro l'impero austro-ungarico che volevano l'ordine perché erano abituati alla disciplina militare e quest'ora erano disoccupati erano dei contadini che lavoravano la terra e incominciarono loro a sostituirsi all'arma dei carabinieri perché l'arma dei carabinieri non è che si era messa contro questi disordini sociali perché questi qua ammazzavano la gente questi volevano che fossero mantenute le promesse fatte in tempo di guerra capito dateci questo pezzo di terra che lavoriamo punto e basta e allora si formarono a tutela dell'ordine a tutela quindi della monarchia che non aveva mantenuto le sue promesse si formarono autonomamente così in varie quasi tutte le province italiane e queste squadre squadre ecco lo squadrismo squadre dei bicchiatori finanziati dai latifondisti e come facevano questi andavano in giro con i camion con i camion andavano in giro e i camion costavano ma chi è che gli dava i camion andavano con i camion poi dovranno comprare l'olio di vicino dovranno comprare i manganelli ci vogliono i soldi per comprare l'olio di vicino e i manganelli e ci pensò la finanza ci pensò cioè ci pensò l'alta finanza i latifondisti era piena dei latifondisti d'Italia i latifondisti chissà cosa ce facevano con tutta quella terra perché uno mica se la mangia la terra ma vai a capire tu le cose di questo mondo e così questi si fa parlo come squadre le squadre dei picchiatori fascisti finanziate dai latifondisti e le stelle stavano a guardare la monarchia stava a guardare perché la monarchia c'aveva paura di questi disordini la monarchia c'aveva la coda di paglia perché non aveva mantenuto le promesse capito non solo non le aveva mantenute ma neanche avrebbe voluto mantenerle d'accordo e allora la monarchia stava a guardare stava a guardare e diverse volte l'arma dei carabinieri intervenne contro gli squadristi quante volte l'arma dei carabinieri intervenne contro gli squadristi quante volte perché i carabinieri quando non faccia nessuno quando non faccia nessuno né belli né brutti loro tirano dritto e fanno bene allora arriva arriva un momento che gli squadristi poi si erano organizzati con Benito Mussolini eccetera e organizzano una marcia su Roma 28 ottobre 1922 e al governo c'era e il capo del governo si chiamava FACTA 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 si chiamava e la FACTA non c'aveva tanta simpatia per cui usavano il manganello e l'oggio di ricino qua lasciatemi dire che i picchiatori fascisti i picchiatori fascisti i squadristi potevano accontentarsi dell'olio di ricino no contro i contadini che protestavano contro anche i ferrovieri che scioperavano potevano accontentarsi no oltre all'olio di ricino pure pure i manganelli capito ma che manganellate cari amici ma che manganellate olio di ricino e manganelli e allora dopo dopo appunto quattro anni di squadrismo finanziato dal capitale allora soprattutto più che industriali sì ma soprattutto i latifontisti i grandi proprietari verieri si fa la marcia su Roma e come hanno fatto come hanno fatto era la dipendenza della monarchia a fin di conti era stato il re di allora il re piccolino il re piccolino è stato il re piccolino che l'ha nominato il capo di governo fatta è fatta dice vuole mettere una cintura di sicurezza attorno a Roma no per prendere a cannonate quelli della marcia su Roma prenderli a cannonate proprio a cannonate però il decreto di fatta doveva essere firmato la sua maestà e sua maestà non lo volle firmare altro grande errore della monarchia sì sì a posteriori e vabbè ma ci poteva pensare ci poteva pensare vabbè e per cui entrano in Roma ecco ecco come sono andate le cose con lo squadrismo cari amici ma alleandosi con lo squadrismo la monarchia si è suicidata perché poi voi sapete nel corso del ventennio il re piccolino il re piccolino Vittorio Emanuele II che tutto sommato sarebbe stato pure una brava persona fu messo in ombra da Benito Benito Mussolini fu messo in ombra e poi Benito Mussolini trascinò la monarchia nella seconda guerra mondiale e il re non fu capace di opporsi alla seconda guerra mondiale anche se al Führer non gliene fregava niente dell'alleanza con l'Italia noi siamo stati solo di peso al Führer solo di peso basti pensare che 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 quando noi abbiamo cercato di invadere la penisola balcanica e poi di fare la guerra alla Griscia fumo sconfitti dalla Griscia per cui il Führer per evitare che nella Grecia in Grecia nella Grecia che aveva sconfitto gli italiani si aprisse un fronte anglo-americano un fronte inglese sbarcassero gli inglesi e il Führer fu costretto a distrarre tantissime divisioni dal fronte russo per conquistare tutta la penisola balcanica e di occupare la Grecia noi siamo stati solo di peso solo di peso al Führer siamo stati va bene non aveva bisogno di noi non ci aveva mai chiesto nulla e poi che successe? è successo che abbiamo perso la guerra abbiamo perso la guerra c'è stato un referendum e la gente ha votato contro la monarchia a favore della Repubblica bene i Savoia hanno perso il Regno d'Italia proprio per essersi alleati prima con gli interventisti che volevano entrare nella prima guerra mondiale poi per essersi alleati con gli squadristi e poi per aver subito il condizionamento da parte del regime fascista che ha voluto la seconda guerra mondiale per cui la dinastia di Savoia è crollata proprio per essersi alleata prima gli interventisti poi gli squadristi fascisti e poi con il regime fascista questo questa è la grande storia cari amici questo è il squadrismo la grande storia ora il Movimento 5 Stelle c'entra come i cavoli a merenda con lo squadrismo fascista capito? a me non risulta che il Movimento 5 Stelle usi l'olio di ricino o i manganelli quindi non capisco per quale motivo eh tipi come Corrado Augas tipi di tutti tipi di tutti i partiti tutti i tipi che hanno sempre mangiato con il finanziamento pubblico dei partiti e parlano del squadrismo pentastellato pentastellato capito cari amici capito cari amici ecco qua cari amici ecco qua cari amici e il mio cari non è un discorso comunista cari ok io la penso come Platone dialogo platonico la Repubblica la proprietà il popolino il popolino può tenersi tutta la proprietà privata che vuole ma i governanti cioè i politici no i politici devono essere senza proprietà privata nella fattispecie giuridica concreta voglio dire che i politici devono fare la politica senza il finanziamento pubblico dei partiti senza tutti quegli scapotaci va bene proprio come dice il Movimento 5 Stelle ok cari amici cari dopo questa lezione di storia squadrismo la guarda di storia vi lascio con questa dolcissima immagine ok grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni e